Buongiorno, ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione. Il comitato dell'Executive Center in un esposto chiede un incontro urgente all'amministrazione comunale per avere risposte sulla contemporaneità dei cantieri che partiranno a breve su via Amendola e che per i residenti creeranno non pochi disagi. Sentiamo. L'esposto giace da pochi giorni sulle scrivanie del sindaco di Bari Antonio De Caro e degli assessori all'urbanistica e lavori pubblici Carla Tedesco e Giuseppe Galasso in attesa di una risposta. Come promesso, il comitato dell'Executive Center non demorde e chiede un incontro pubblico urgente con l'amministrazione comunale, da cui pretende certezza in ordine alle criticità sollevate sull'imminente contemporaneità dei più cantieri su via Amendola, tra le più importanti arterie cittadine. Parliamo del progetto di RFI per il cosiddetto nodo ferroviario del raddoppio di via Amendola e del cantiere per la nuova lottizzazione prevista alle spalle del Campus X. Le uniche notizie disponibili sono quelle provenienti dagli organi di stampa, scrive il comitato nell'esposto, che lamenta il mancato coinvolgimento dei residenti della zona in decisioni così importanti. Desta particolare preoccupazione poi la realizzazione di un parcheggio di scambio da mille possi e di un sottovia proprio nella zona in cui sorge il complesso residenziale. Particolarmente grave la mancanza di un adeguato studio sull'impatto del traffico che sarà generato dalla contemporanea esecuzione dei lavori su una zona già fortemente stressata dalla presenza di un vero e proprio polo sanitario, costituito dall'ospedale Giovanni XXIII e dalla vicinissima Mater Dei. E proprio domani mattina sul tema sarà ascoltato in Commissione Lavori Pubblici l'assessore del Comune di Bari, Giuseppe Galasso. Attraversano il cantiere del waterfront di San Girolamo per andare a mare. Nei giorni passati alcuni bagnanti sono stati immortalati mentre prendevano comodamente il sole e facevano il bagno nelle acque di San Girolamo, dove a breve sarà inaugurato il nuovo waterfront. L'area è delimitata da una recinzione, all'interno si possono trovare facilmente pezzi di ferro tra le pile di tubi e il pietrisco non ancora sistemato. Della situazione è stato informato l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso. Secondo me la zona è più frequentata nel fine settimana, ha commentato. Per questo motivo ci stiamo adoperando per aprire un tratto di spiaggia fruibile dai cittadini vicino al Lido Massimo, dove contiamo di completare il lungomare. Lutto nel mondo politico pugliese. All'età di 86 anni è morto Giacomo Prinsigalli, originario di Canosa di Puglia e membro della Costituente regionale nella quale venne eletto con la lista del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nel ruolo di consigliere, ricordano gli amici, era molto attento all'attività amministrativa che curava con estrema precisione. La sua passione più grande è stata sempre la politica. Amava fare i volantinaggio, partecipare ai dibattiti e parlare con i giovani. Nell'ultimo periodo Prinsigalli è stato vicino al partito sinistra italiano. 8 ballottaggi su 140, 3 solo in Puglia. Torniamo a parlare di amministrative e dei risultati conseguiti dal Movimento 5 Stelle. Abbiamo chiesto un'analisi al capogruppo Pentastellato a Palazzo di Città, Sabino Mangano. Sinceramente tutto questo polverone che hanno innalzato molti media relativa al debacle del Movimento 5 Stelle io la vedo in maniera costruita appositamente per mettere in difficoltà il Movimento. La realtà è che l'anno scorso avevamo due ballottaggi in Puglia. Quest'anno ne abbiamo tre. Inseriremo tantissimi consiglieri comunali in tanti comuni dove non c'eravamo. Il dato amministrativo va letto in questo modo. E soprattutto è una rivoluzione sicuramente lenta ma inesorabile. Basta guardare l'entità del voto. Quindi se analizziamo le grandi coalizioni che hanno messo in campo i partiti le singole liste hanno percentuali bassissime. Quindi sono quasi partiti che stanno scomparendo. PD, Forza Italia hanno percentuali molto molto basse. Hanno fatto dei numeri solo con le coalizioni. Ma coalizioni significa poi instabilità governativa. Ed è quello che accade in tutti i comuni che hanno queste megaliste che alla fine producono amministrazioni poco consone a dei risultati concreti e più consone a diattribi interni e a ricatti interni per avere qualche assessorato. Scoperti 35 kg di cetrioli di mare nel porto di Bari erano destinati a un ristorante cinese di Riccione. I funzionari dell'ufficio delle Dogane che hanno scoperto il carico hanno rimandato nel paese d'origine i frutti di mare essiccati. Le oloturie, meglio note come cetrioli di mare, sono considerate una prelibatezza della cucina orientale ed erano nascoste in un borsone appartenente a un passeggero di nazionalità albanese. La merce, ritenuta non idonea dal punto di ispezione frontaliera del Ministero della Salute, è stata prontamente respinta nel paese d'origine, in quanto non corredata dalla prescritta documentazione a tutela della salute pubblica. E oggi 13 giugno si festeggia a Sant'Antonio anche a Bari, grande festa sulla piazza del santuario tra sante messe e la tradizionale distribuzione del pane. E' il santo dei viaggiatori, delle cose perdute, anche dell'amore e della famiglia. Sant'Antonio è amato e venerato in tutto il mondo, dal Portogallo a Padova fino a Bari. Ieri il corteo storico che ha anticipato la festa di oggi sulla piazza del santuario è lui dedicato. Dalle 6 di questa mattina, messe ogni ora fino alle 12 e poi ancora dalle 17 alle 19. Alle 20 questa sera invece, la processione che percorrerà solo l'isolato che circonda la Chiesa, il tutto incorniciato dalla tradizionale benedizione e distribuzione del pane. Sant'Antonio è il santo del pane per eccellenza, il santo che procura il pane per ogni necessità. E le famiglie oggi più che mai hanno bisogno di pane, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di tutto quanto necessita per crescere e per andare avanti ogni giorno. E allora Sant'Antonio quest'anno è il santo per eccellenza della famiglia. I momenti di preghiera all'interno del santuario si alternano a quelli di folclore sulla piazza, tra bambini vestiti da Sant'Antonio e una folla pronta ad afferrare il pane benedetto o a far benedire i 13 panini appena acquistati, da distribuire poi, come da tradizione, ad amici e parenti. Ogni anno appuntamento fisso qui? Sì, sì, ogni anno. Ma noi facciamo già i martedì? Siamo devoti a Sant'Antonio perché io ho vestito mio figlio tutti gli anni, della verità. Noi veniamo sempre, hai chiesto a Sant'Antonio, sì, devoti. Da quanti anni è devota? Eh, non si capisce, è una vita. Sono 13 panini, per cui uno a qualcuno e a qualche parente in casa. La tradizione dice che si devono far benedire 13 panini? Sì, sì, come la data di Sant'Antonio. Lo facciamo benedire e poi lo diamo, lo distribuiamo alle persone, non che ce lo teniamo noi, lo distribuiamo. L'ho preso da chi l'ha benedetto e l'ha distribuito. Ha preso il pane? Sì, sì, lo prendo pure per mia nuore, mie nipote, è un pezzo per parte, non voglio dimostrare. Devoto a Sant'Antonio sono tanti anni, 30 anni. Questo è il primo anno che faccio il pane. Atleti, agonisti e tecnici del CONI ammessi al Corso di Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell'Università degli Studi di Bari. Dei 230 posti, 20 sono stati riservati ad atleti professionisti di elevato livello in discipline olimpiche o di interesse nazionale senza limiti di età e altri 20 a tecnici del CONI di quarto livello europeo. Per entrambe le categorie i candidati saranno messi in ordine di presentazione delle domande. Il mando per l'ammissione al corso di studio sarà disponibile sul sito www.unibar.it a partire dai primi di luglio. La domanda potrà essere presentata entro un mese dalla pubblicazione. Il Rettore dell'Università degli Studi di Bari risponde alla protesta degli studenti sull'aumento delle tasse con proroghe sul pagamento delle ultime due rate e nuove agevolazioni per un quarto della popolazione studentesca. Sentiamo. Nuove agevolazioni e ulteriori proroghe nel pagamento delle ultime due rate e la risposta del Rettore dell'Università degli Studi di Bari Antonio Felice Uricchio alla protesta degli studenti contro il rincaro delle tasse. Molti abbandonano gli studi perché non ce la fanno a pagare tutte le rate ha denunciato nella giornata di ieri il coordinatore pugliese dell'Associazione Studentesca Link Piercarlo Melchiorre. Abbiamo incontrato il Rettore e ci ha assicurato che convocherà breve un tavolo tecnico insieme a studenti, regione e comune. E l'appello alle istituzioni arriva anche dal Consiglio di Amministrazione dell'Università che qualche giorno fa ha approvato il nuovo regolamento sulla contribuzione studentesca per l'anno 2017-2018. Abbiamo nel nuovo regolamento tasse esteso la no tax area addirittura in modo più ampio rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per cui 10.500 studenti del nostro Ateneo potranno fruire della detassazione totale quindi non avere alcun tipo di onere fiscale per effetto dell'estensione della no tax area anche agli studenti che sono di sotto della soglia ISEE prevista dalla legge anche in corso con gli studi o del primo anno fuoricorso. Novità anche in merito alla sovrapposizione delle ultime due rate, oggetto di protesta da parte degli studenti. Abbiamo ulteriormente prorogato con un decreto che porterò a ratifica del Senato Accademico del Consiglio di Amministrazione la rata in scadenza al 30 giugno e quindi prorogandola al 31 luglio. La nostra Università subirà un decremento di gettito di 3 milioni e mezzo di euro che intendiamo ripianare attraverso ulteriori azioni di spending review senza quindi aggravi di tassazione ma ovviamente siamo fiduciosi che ci possano essere interventi sia a livello centrale che locale per sostenere l'effettività del diritto allo studio. Iggy Pop è il mio medimex con 140 musicisti pugliesi sui 200 che hanno suonato nella tre giorni dedicata alla musica. A parlare il presidente di Puglia Sound Cesare Veronico durante la puntata odierna del nostro programma radiobari.ca. Sentiamo. Erano più di 50 mila, insomma diciamocelo. C'è stato il momento clou e la gente arrivava fino al Margherita e fino al cavallo di Corso Vittorio Emanuele e le persone erano strettissime. E' una folla che io non ho mai visto, mai in nessun evento. I timori erano quelli di quando tu hai in una piazza 80.000 persone quindi ci può scappare quello che ha bevuto un po' di più quello che si fa male ballando, insomma era quello in realtà poi il rischio. Iggy Pop sta partendo proprio in questi minuti è stato cinque giorni a Bari e ha girato anche il resto della regione insomma ed è rimasto particolarmente stupito non si aspettava minimamente una cosa del genere. Gli piace moltissimo stare da noi, gli è piaciuto moltissimo lui vive a Miami e quindi diciamo che ha trovato un clima da Florida proprio perché noi non abbiamo nulla da invidiare alla Florida. Mi chiedeva l'assistente e voleva andare a pane e pomodoro infatti siamo stati noi a dirgli guarda ti conviene fare qualche chilometro in più ma semplicemente per la privacy non per altro. Le scene di Bari Vecchia che mi hanno raccontato lo chiamavano l'iguana come se fosse il fratello oppure le signore che dicevano ma guarda quello a 70 anni guarda come zompa mentre mio marito cioè ci sono state delle scene divertenti. Quello che posso dirti appunto dicevo è la cosa poi divertente che ora amici e sconosciuti mi mandano Whatsapp messaggi sui social, messaggi, sms mi consigliano la line up, i concerti. Andiamo alle notizie sportive. Targa e medaglie per festeggiare il salto di categoria alla New Matter Volley di Castellana Grotte fresca di promozione in Superlega maschile è stata premiata questa mattina dal sindaco di Bari Antonio De Caro. Gli atleti allenati da coach Giuseppe Lorizio hanno centrato lo scorso 14 marzo l'approdo nella massima serie italiana di pallavolo maschile una cavalcata che ha visto i castellanesi compiere ben tre salti di categoria consecutivi a partire dal campionato di B2. Alla New Matter Volley il compito di rappresentare l'area metropolitana di Bari in uno dei più importanti campionati di pallavolo europei. Maggiori dettagli nell'edizione odierna di TB Sport con le interviste all'allenatore Giuseppe Lorizio e al presidente Gaetano Carpinelli. E questa era la nostra ultima notizia vi ricordo come sempre per gli aggiornamenti potete seguirci sul nostro sito www.telebari.it o sulla nostra pagina Facebook adesso vi lascio le previsioni del tempo Buon pomeriggio! Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebi Meteo ci aspetta un mercoledì ancora l'insegna dell'alta pressione su buona parte d'Italia anticiclone che dà luogo a stabilità e bel tempo quasi ovunque salvo qualche temporale pomeridiano sui settori alpini ed a tratti sui versanti settentronali appenninici. Diamo uno sguardo anche al dettaglio relativo alla nuvolosità con questi addensamenti che transiteranno tra mattino e pomeriggio sulle nostre regioni settentronali saranno a prevalente carattere stratiforme su coste e pianure quindi di scarsa consistenza un po' più intensi invece al pomeriggio sulle Alpi dove a tratti saranno presenti anche dei temporali bello e soleggiato altrove lo vediamo anche nel dettaglio relativo a tutta la nostra penisola con un cielo in gran parte sereno poco nuvoloso da nord a sud salvo queste acquazioni pomeridiane di cui parlavo poc'anzi farà ancora piuttosto caldo soprattutto su Balpadana e zone interne del centro sud con punte massime diffusamente superiori ai 30 gradi caldo e contesto generalmente affoso in prossimità dei grossi centri urbani e i litorali con questo è tutto per aggiornamenti dettagliati